basco riprendi cosa devo schiacciare? c'è già pronto sta già filmando ora dico cosa sta succedendo perché se no non lo capisco tutti gli spettatori a casa allora stiamo cercando un barbone maledetto un pezzo tu c'è un pubriaco dai prendi prendi i cartoni dai poverino io devo passare a fianco io vai in cima vai gli oliotti hai ripreso un altro? eh sì sì è morto ma che cazzo è? no stai riprendendo lo vedi qua qua? aspetta fammi passare il panettone lo riprendi qua qua poi riprendi ho passato veloce però va a casa barbone di merda no 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 no